Che cosa succederà adesso che Mario Draghi ha chiuso l'ombrello del cosiddetto quantitative easing? Beh, intanto vediamo che cos'è il quantitative easing. Di fatto è un programma di acquisto dei titoli di Stato da parte della BCE per fare in modo che i prezzi restino sostenuti e i tassi di interesse di conseguenza siano bassi. Questo è lo scopo fondamentale della manovra che Mario Draghi ha messo in atto dal marzo del 2015. E vediamo che cosa succederà almeno per tre categorie importanti di attori dell'economia mondiale e anche italiana. Cioè il governo, i consumatori e i mercati. Beh, il governo dovrà fare attenzione perché i tassi comunque cresceranno. Fino a oggi abbiamo risparmiato 10 miliardi in termini di tassi di interesse, quindi significa molto. E quindi significa che dal prossimo anno dovremo tener conto che la spesa comunque aumenterà. Vediamo che cosa succederà invece per quanto riguarda i mercati, la cosiddetta speculazione. Beh, questo è un po' il punto dolente perché uno degli obiettivi del quantitative easing era quello di tagliare l'erba sotto i piedi della speculazione. Cioè cercare di non fare aumentare il cosiddetto diabolico spread. A questo punto lo spread non avrà più un tetto, per cui se si scatenerà la speculazione contro l'Italia, a questo punto, a meno che Mario Draghi non si riservi comunque di intervenire con altri strumenti e allora i tassi cominceranno a crescere e lo spread comincerà a crescere e quindi saranno dolori. Il terzo punto riguarda i consumatori. Per ora non succederà niente, non succederà nulla neanche per i primi sei mesi del prossimo anno perché i tassi di interesse non aumenteranno. Tuttavia, se consideriamo anche che la Fed, cioè la Banca Centrale Americana, ha aumentato appena ieri i tassi e che comunque i mercati ragionano sempre con una prospettiva temporale piuttosto ampia, quindi già ragionano su quello che potrà accadere nella metà del prossimo anno, beh, allora dobbiamo pensare che anche i tassi di interesse cresceranno, dunque cresceranno di conseguenza i tassi di interesse sui prestiti, i tassi di interesse sui mutui. Dunque, dobbiamo muoverci e abituarci a muoverci in un mondo che sarà un po' più complicato.